Apri il programma, parte inizia, Franco Tutorial ti dà le dritte giuste Franco Tutorial ti solubilizza Ciao a tutti amici, io sono Franco Aversa Oggi andiamo a vedere un nodo che è stato aggiunto sulla versione DaVinci Resolve 19 in Fusion Molto utile e soprattutto con la nostra fantasia potremo farci veramente tantissime cose Per utilizzarlo andiamo nella Media Pool, clicchiamo tasto destro New Fusion Composition E andiamo ad inserire questa clip in Timeline Poi andiamo in Fusion Questo nodo lo possiamo trovare sugli effetti sotto Tool E andiamo sugli Shape, eccoli qua Tool Shape, Shape Tutti questi nodi con la S prima della parola appartengono alla famiglia degli Shape Quindi andiamo a vedere cosa possiamo fare Ad esempio mettiamo un S star Questi ora si possono visualizzare direttamente Premiamo 1 e vedete che abbiamo questo tipo di poligono Che possiamo andare a configurare come ad esempio numero di punte, profondità delle punte eccetera Questo c'era già A questo cosa è stato aggiunto? E' stato aggiunto il nodo S Duplicate Quindi se andiamo su lo troviamo S Duplicate Andiamo a ripicciolire un po' la stella per poterla duplicare Cosa che non è ancora stata fatta E questo in molti nodi Non c'è un lucchetto, una catena che chiuda due valori Quindi abbiamo larghezza e altezza E possiamo muoverli separatamente Possiamo resettare valore Mentre a video possiamo avere i valori assieme Perché abbiamo il valore in verticale così Il valore orizzontale così Però possiamo anche muoverli assieme Vedete utilizzando la diagonale Come vedete gli slider si stanno muovendo assieme Se infatti lo resetto così Vedete che il valore è uguale Invece qui come dobbiamo fare per muoverli assieme Non c'è un comando che vada ad attivare Dobbiamo aggiungere un expression Quindi su uno dei due valori Basta premere tasto destro Expression E a questo punto trasciniamo su così Dal più con tasto sinistro Fino all'altro valore In questa maniera vedete che viene riportato Il nome del valore qua dentro E quindi muovendo il primo valore Muoveremo anche il secondo assieme Ok? Queste erano tutte cose che sapevamo già Ora spostiamo con offset Questa figura che abbiamo creato E andiamo ad agganciarlo Al duplicate tasto sinistro Dal quadratino E lo trasciniamo così Visualizziamo il duplicate di qua Premendo 2 Non vediamo nulla di particolare E funziona questo nodo Come il duplicate normale Delle figure poligonali normali Come facciamo? Dobbiamo aggiungere un numero di copie Queste copie sono sommate sopra Perché non abbiamo spostato nessun valore Ora se ad esempio andiamo a spostare Un valore di X Possiamo muovere lo slider O muovere qua in di frente Vediamo che abbiamo le nostre figure duplicate Così possiamo muovere anche un valore Y E ottenere come vedete delle diagonali Oppure solo il valore Y E abbiamo delle traslazioni così in verticale Perfetto andiamo a muovere così Poi abbiamo un valore Z offset Cos'è? Se lo facciamo non vediamo assolutamente niente Invece questo è molto utile nell'ambiente 3D Ma perché non lo vediamo qua? Perché serve per esempio Quando andiamo a estrudere questa figura Infatti abbiamo un altro nodo Che è Estrude Quindi possiamo premere Shift Barra spaziatrice E cercare Estrude 3D Questo è un nodo che estrude anche le normali figure 3D Andiamo a vederlo E andiamo a vedere che adesso S duplicate Il valore Z Fa spostare il mio oggetto Nel campo Z Andiamo a vedere cosa succede Quando estrudiamo questa figura Quindi su Estrude Io metto una profondità E guardate che bello Abbiamo proprio la profondità Clicco qua per vedere Una simulazione dell'ombra Vedete che sto estrudendo la mia stella Andiamo a vedere un solo visualizzatore Guardate cosa possiamo fare Abbiamo la suddivisione dell'estrusione Per avere un'estrusione migliore E poi abbiamo la profondità con il bevel Quindi possiamo dare il bevel E l'estrusione E guardate cosa abbiamo fatto Abbiamo creato uno scalino Con l'altezza e la profondità Dello scalino E questa è l'estrusione E ora vedete che quindi Z offset Che prima non serviva niente Serve proprio per spostare Questi oggetti Nello spazio Ok togliamo l'estrude per un attimo E ritorniamo Alla nostra duplicate normale Poi abbiamo una dimensione X e Y Anche questi sono valori Che bisogna agganciare fra di loro Quindi dobbiamo cliccare Tasto destro Expression E andiamo a unire così Abbiamo unito i due valori E sulla copia Avremo anche un ingrandimento Quindi vedete Non solo abbiamo duplicato Cinque pezzi Ma stiamo dicendo di rimpicciolirli O dall'altra parte Di ingrandirli Quindi Un tool che veramente Ci permette di fare molte cose Poi abbiamo anche Un'origine Che sarà assoluta Quindi vedete che adesso I pezzi Si sono spostati in maniera diversa Origine relativa Origine assoluta E progressiva E questi come vedete Ci cambiano Come vengono sistemati Nello spazio Questi oggetti Riferito anche a questi valori Sottostanti Che sono Un pivot Per spostare gli oggetti In X In Y Molto carino Guardate Possiamo far fare Delle curve Quasi Degli archi E poi qua Abbiamo sempre riferito All'ambiente 3D Una rotazione X Y E invece qua Abbiamo una rotazione Z Che fa Spostare la nostra coppia Ruotandola Attorno A un asse Ovviamente più coppia abbiamo E più la cosa diventa interessante E carina E come vedete Ecco qua Possiamo far ruotare Questi oggetti Attorno A diciamo Un perno Rivediamo La rotazione X Y Sul Sull'estrude E se ritorniamo Sul duplicate Vedete che ora Va A proprio A torcere A far ruotare In X Questo Guardate Che meraviglia O In Y Quindi vedete Che abbiamo Tutte queste Possiamo creare Tutte queste Spirali Ma giocando bene Con questi valori Possiamo creare Veramente delle cose Particolari Andiamo a zerare Un attimo Questi valori Perché devo farvi vedere Anche un'altra cosa Molto particolare Perché queste cose Diciamo C'erano già anche Nelle altre versioni Ma Nella versione 19 Abbiamo Questo valore qui Duplicate Along E path Allora Andiamo a mettere La dimensione Uguale All'originale Così si vedrà Meglio Magari Facciamo Tante Tante Copie 50 Copie E Le portiamo Tutte Molto Più vicine Ecco qua Vedete Le posso Addirittura Sormontare Per avere Una Linea E adesso Guardate Cosa succede Quando faccio Duplica Lungo Un percorso Si vanno A attivare Queste scale Per far Questo Dobbiamo Avere Un attimo Il viewer Doppio Eccolo qua Però dopo È indifferente Su quale Dei due Viewer Andate A disegnare Vedete Che abbiamo Tutti I nostri Tool A questo punto Si può anche Metterne Uno solo Viewer E adesso Se vado A disegnare Posso Disegnare Un Percorso Lungo Il quale Possono Venire Duplicate Le mie Copie Quindi Vado A aggiungere Le copie E guardate Che bello Abbiamo Tutte queste copie Che si stanno Disponendo Lungo Il percorso La posizione Dipende Da Da questi Valori Qua Allora Andiamo Un attimo A ridurre Il numero Di copie Ecco Quello Vedete E possiamo Anche ridurre La dimensione Ad esempio Della stella Così vedete Proprio che Disposta Secondo Quel valore Là Se andiamo A modificare La curva Come vedete In tempo reale Possiamo Vedere Possiamo Togliere Anche punti Possiamo Vedere La modifica In In tempo reale Della nostra Della nostra Curva O se ne Aggiungiamo Eccetera Questo Percorso Si può Modificare In qualsiasi Modo Con tutti I tool Quindi andare A rotondare Possiamo Con le maniglie Con le curve Di beset Come vedete Andarlo A sistemare Possiamo Anche portarlo Fuori Dello schermo E poi Con questi Uno È La scala Del Di come Si vanno A Inserire Nella Di distribuire Lungo La curva Come vedete E invece L'altra È Il posizionamento Lungo La curva E quindi Possiamo Ottenere Tutta questa Serie Di giochini Dove Facciamo Arrivare Tutte Queste Nostre Figure Duplicarle Attenzione Una cosa Io adesso Ho semplificato Il tutto Perché Ho inviato Un solo Oggetto Duplicate Ma io posso Inviare Qualsiasi cosa Duplicate Posso inviare Una somma Di Di Shape Quindi fare Anche Di boleani Di differenza Eccetera Vi faccio vedere Con un altro Hang on Tanto Per fare la prova Si uniscono Formando Un s Merge Questo Viene anche Fuori da solo E quindi Vedete che Già Si uniscono Le figure E da qua Possiamo Decidere Quante Lasciamo pure Un triangolo Sappiate che Possiamo anche Colorare Lo shape In maniera Diversa Quindi Possiamo Avere Degli shape Già colorati Anche questa La differenza Tra uno shape E altre figure E così Potremo anche Addirittura Creare Dei loghi Sovrapponendo De più figure Di disegni Eccetera E come vedete Il duplicate Poi Andrà Appunto A regolare La loro Distribuzione Ovviamente Anche La posizione Che hanno Che ha Il singolo Elemento Nello spazio Va a incidere Su quello Che è Poi Il duplicato Vedete Ecco qua Che posso Andarli A sovrapporre Il merge Funziona Come un merge Normale Dove c'è Un Background E foreground Quindi si può Invertire Con Uno swap Premendo Control T E vedete Che ad esempio Adesso ho messo La stella Sopra Il mio triangolo E quindi Posso andarla A Posizionare A questo punto Se facciamo una cosa Un po' particolare Così Se io Passo Al Estrude Estrude 3D Avrò Andiamo a vedere L'estrusione Di Questi Oggetti Come state vedendo Andiamo a Inserire L'estrusione E vedete Che ho Un oggetto Particolare Che è la somma In questo caso Dei due Al quali posso mettere Anche Come prima Il Il Bevel Anche come Bordo Diciamo E ecco qua Guardate Che cosa Con queste caratteristiche Qui posso fare Anche qualcosa Che sembri Organico Perché ad esempio Se con gli shape Vado a disegnare Delle foglie Potrò fare Duplicare Queste foglie Lungo Un percorso E quindi Simulare Quello che può essere Quasi una pianta O qualcosa Che va Crescendo Con delle Espressioni Casomai Se vi interessa Scrivetemelo sotto Vi farò vedere Possiamo legare I valori Di Un poligono Che cresce Con L'allungamento Del nostro Pat Quindi Possiamo far crescere Il pat Con la duplicazione Degli oggetti E uno shape Che cresce Sotto Cosa può servire Ad esempio Ho fatto delle prove Sono abbastanza carine Dove si vede Un ramoscello Che cresce E le foglie Che gli crescono Attorno Ecco E' tutto Ancora molto Da studiare bene Ma lavorandoci Si ottengono Veramente Cose carine Come avete visto In sigla Ricordatevi Che poi Si possono Ottenere cose Veramente Veramente Complesse Con l'unione Di più Duplicate Perché se io qui Vado a aggiungere Un secondo Duplicate Questo Andrà a duplicare Tutto ciò Che arriva da questo E quindi Guardate Vado a fare Sei copie Ho fatto sei copie Di quello Se Le facciamo Ruotare Ecco qua Vedete Sto duplicando Tutte quelle copie Lì Guardate Guardate che lavoro Adesso così Sembra Un gran caos E anche perché L'abbiamo anche Estruso Ma se Lavoriamo Su Un qualcosa Di Piccolino Possiamo Ottenere Delle cose Veramente Particolari Potremmo creare Fili d'erba Ciuffi D'erba Cespugli Ecco Un esempio Così Fatto Molto Velocemente Ho fatto Uno shape Poligono Che è questo Qui Poi Ovviamente Si può fare Più fino Eccetera Eccetera Ricordatevi Che abbiamo Anche il Transform Che ci permette Di ruotare Il nostro Pezzo Anche se Si può fare Direttamente Già con Shape Ma con S Transform Possiamo Spostare Anche il Pivot Del nostro Oggetto E spostarlo Prima di Mandarlo In duplicazione Ecco qua Che andiamo A duplicare Il nostro Oggetto Abbiamo creato Una specie Di Cespuglietto D'erba E se io Lo mando A un ulteriore S duplicate Posso Ulteriormente Creare Delle copie E spostarle Questi Sempre Possono Essere Spostati Con S Transform E quindi Se Ho Bisogno Ad esempio Di Ridimensionare Posso Farli Più Piccoli Posso Spostarli Per Andarmi A Centrare E poi Da qua Scelgo L'offset Come prima E come Faccio a Duplicarli In verticale In orizzontale E in verticale Se ad esempio Qua voglio fare Un prato Se faccio Così Va in Diagonale Aggiungerò Un altro S duplicate Solo Per copiare In verticale Quindi faccio L'offset Andiamo A vedere Vedete Faccio La duplicazione Solo Con L'offset Verticale E vedete Che ne sono Fatto Una specie Di campo Con Con Quest'erbetta Magari Posso Farlo Scivolare Un pochino Così Ok E avete visto Cosa ho Combinato E pensate Quindi Con questi Con questi Nodi Cosa possiamo Fare Poi Una volta Che vogliamo Passare A dei nodi Normali Possiamo Usare L'S Render Che andrà A trasformare Il nostro La nostra Composizione In Un Nodo Normale 2D Diciamo E a questo Possiamo Applicare Qualsiasi Trasformazione Normale Ad esempio Possiamo Utilizzare Un Transform Normale E utilizzare La sua Proprietà Wrap Per andare A duplicarlo All'infinito E guardate Cosa stiamo facendo Ovviamente Qua io non ho riempito In altezza Se no Non vedremo Non vedremo Buchi Facciamo così E andiamo A duplicare In altezza Possiamo Creare Dei pattern Continui E voilà E esserci Creati Un Un disegno Che va Ripetuto All'infinito Bene Di questi Esempi Possiamo farne A migliaia Quindi se vi interessa Qualche esempio Anche pratico Diciamo Con queste possibilità Scrivetemi Che così Le vediamo Assieme Mi raccomando Ricordatevi Di mettere Un bel like Iscrivervi al canale E cliccare Sulla campanella Per stare Sempre avvisati Quando posto Nuovi video E condividete Per aiutarmi A far crescere Il canale Io vi ringrazio E ci vediamo Alla prossima Ciao Alla prossima